All'Asia fondamentale la sinergia tra regione e corte dei conti. Vita nascente, via libera in commissione. Un anno di diritti umani e civili. Nuova edizione di Consiglio News ben trovati. Celebrati a Torino i 160 anni della Corte dei Conti con la quale la regione ha un rapporto costante e sinergico per trovare soluzioni equilibrate ed efficaci nella gestione del bilancio regionale. Con queste parole il Presidente del Consiglio regionale Stefano All'Asia ha salutato il Capo dello Stato Sergio Mattarella che ha presenziato al convegno inaugurale. Il Presidente del Consiglio regionale Stefano All'Asia è intervenuto a Palazzo Reale alle celebrazioni per il 160esimo anniversario dell'istituzione della Corte dei Conti italiana che ha visto la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. I giudici contabili della Repubblica si sono riuniti a Torino, luogo d'origine della Corte dei Conti, per una due giorni di convegno che ha avuto come focus il ruolo della Corte dei Conti al servizio della collettività nell'evoluzione delle sue funzioni. Il primo appuntamento più istituzionale si è tenuto martedì nel Salone degli Svizzeri di Palazzo Reale, il secondo più tecnico si è svolto mercoledì alla Regia di Venaria. Un ente di controllo importantissimo per lo Stato e soprattutto per gli enti locali come la Regione Piemonte. Come ho già detto ci deve essere una sinergia fra le parti per cercare di utilizzare il meglio i soldi pubblici, i soldi dei cittadini. La Corte dei Conti ha attraversato 160 anni di storia e rispondendo nel tempo alle mutate esigenze della collettività costituisce tuttora un sostituibile elemento dell'architettura istituzionale repubblicana. Ponendosi al servizio dello Stato, comunità e nel superiore interesse della Repubblica intende in definitiva essere propositiva nei processi di riforma che in sede legislativa si riterranno necessari, avendo sempre come chiaro riferimento i principi costituzionali. Una garanzia per i cittadini per la trasparenza perché i soldi effettivamente vengono usati per garantire i diritti sociali e le fasce più deboli. Chiusa la discussione generale, la prima commissione preseduta da Carlo Riva Vercellotti ha iniziato l'esame e il voto degli emendamenti, finora sono 328 sulla variazione di bilancio. Relatore di maggioranza sarà Federico Perugini-Lega, relatori di opposizione Diego Sarno, Partito Democratico, Shonsacco, Movimento 5 Stelle e Silvio Magliano-Moderati. L'assessore al bilancio Andrea Tronzano ha ricordato l'importanza della variazione che espossa risorse per circa 44 milioni di euro da un capitolo all'altro e la necessità di farla approvare celermente dall'opposizione pur condividendo molti punti del provvedimento si sono chieste maggiori risorse per le RSA e il caro Bollette. Vita Nascente, Via Libera in Commissione Sanità Parere favorevole a maggioranza in Commissione Sanità presieduta da Alessandro Stecco alla bozza di Delibera per il cosiddetto Fondo Vita Nascente, un provvedimento che, ha spiegato l'assessore alle politiche sociali Maurizio Marrone, si propone di accentuare la collaborazione tra servizi sociali, sanità e terzo settore e operare sempre più in un'ottica di sviluppo delle reti locali per prestare aiuto alle donne in difficoltà. La bozza è esplicita i criteri per l'accesso ai finanziamenti, per promuovere il valore sociale della maternità e sostenere le gestanti e le neomamme. Il documento prevede che, dei 460 mila euro stanziati per il 2022, 400 mila vengano destinati a progetti presentati da enti del terzo settore iscritti agli elenchi approvati dalle ASL per azioni quali ascolto e consulenza attraverso la presenza nei presidi sanitari, supporto alle donne in attesa per accompagnarle in una scelta individuale consapevole, progetti di sostegno alle mamme sia di natura economica sia attraverso la fornitura di beni di prima necessità, percorsi di sostegno psicologico individuale e di gruppo e di accompagnamento di automutuo aiuto. I restanti 60 mila andranno ai quattro soggetti gestori delle funzioni socioassistenziali individuati dalla delibera di giunta del 2006, i comuni di Torino e di Novara e i consorsi Cissaca di Alessandria e Csac di Cuneo per interventi assistenziali. Nel corso del dibattito Silvio Magliano, moderati, ha espresso parere favorevole sulla delibera e ha sottolineato il rafforzamento del ruolo pubblico. Sara Di Sabato, Movimento 5 Stelle, ha evidenziato alcune incongruenze, lamentando tra l'altro che il provvedimento attribuisca fondi alle associazioni e non alle donne. Domenico Rossi e Diego Sarno, Partito Democratico, hanno chiesto il rinvio della discussione a dopo l'approvazione della variazione di bilancio per ovviare a eventuali istanze di incostituzionalità e possibili impugnative. Francesca Frediani, Movimento 4 Ottobre, ha definito non del tutto condivisibili l'ambito di creazione dei progetti e l'elenco dei soggetti destinatari. Il Comitato Diritti Umani e Civili compie un anno. Numerose le iniziative in programma. A un anno dal suo insediamento, il Comitato Diritti Umani e Civili traccia un bilancio delle attività e guarda al futuro con una serie di iniziative rivolte alla cittadinanza. Il Comitato, organismo di consultazione e partecipazione istituzionalmente riconosciuto, è unico nel panorama legislativo italiano. Al suo interno operano rappresentanti dell'associazionismo e di organizzazioni non governative. Di particolare interesse la mostra Tratti di pace e linguaggi intermittenti, realizzata dall'associazione Albedo di Bra e promossa dal Consiglio regionale del Piemonte, che è visitabile fino al 28 ottobre nell'ufficio Relazioni con il pubblico del Consiglio regionale e vede esposte opere di artisti locali che trattano i temi della pace. Tra le numerose iniziative sostenute dal Comitato Diritti Umani e Civili, è il ciclo di incontri intitolato Pace e Guerra, che ha preso il via l'11 ottobre e proseguirà fino al 4 aprile del 2023 in collaborazione con il Circolo Culturale Italo-Arabo d'Aralikma. Durante tali incontri, studiosi laici e rappresentanti di religioni diverse si confronteranno per offrire chiavi di lettura interdisciplinari sull'idea della pace dal punto di vista culturale, religioso e spirituale. Il ciclo di eventi è stato inaugurato con la proiezione del docufilm San Francesco e il Sultano. Come Fil Rouge quest'anno avevamo scelto il tema femminile, ma un altro punto su cui ci stiamo soffermando molto è il tema religioso e quindi iniziare a farlo stasera, peraltro con dei grandi esperti, è anche un grande punto di orgoglio assolutamente che contribuisce un notevole valore al calendario di questa attività. La cultura è il miglior antitodo, il miglior vaccino contro stereotipi, pregiudizi, populismi, degamalogie. Oggigiorno si direbbe fake news. Premiati i campioni nazionali ed europei di Special Cheer. Gli atleti vincitori dei campionati italiani FICEC, Federazione Italiana Cheerleading e Cheer Sport e dei campionati europei ECU 2022 sono stati premiati a Palazzo Lascaris con un riconoscimento speciale del Consiglio regionale. La cerimonia è stata l'occasione per ripercorrere i momenti più emozionanti della stagione 2022 e per premiare, oltre agli atleti, anche lo staff tecnico della squadra di Special Cheer. Presenti alla cerimonia i vicepresidenti del Consiglio Francesco Graglia e Daniele Valle e i consiglieri segretari Ivano Martinetti e Michele Mosca. Aver visto oggi tutti questi ragazzi orgogliosi di essere premiati, orgogliosi di essere qui in una sede istituzionale, sentirsi protagonisti per qualche minuto, per qualche ora, personalmente mi ha aperto il cuore. Dovremmo avere più spesso questi momenti perché è un quadro di colori in un mondo grigio. Era il 2019 quando l'Associazione Le Nuvole di Fossano, che riunisce ragazzi con disabilità provenienti da tutta la provincia, decide di affrontare una grande avventura, cimentarsi nelle cheerleading, vera e propria disciplina sportiva, riconosciuta come tale anche dal Comitato Olimpico. Lo scorso giugno 2022, l'Associazione Sportiva ha partecipato a Verona ai campionati d'Italia di Special Cheer, ottenendo il primo posto del group stunt della categoria Special. A luglio 2022, gli atleti hanno preso parte agli europei di Atene, qualificandosi campioni d'Europa. Il prossimo obiettivo è andare ad Orlando nel 2023, dove si svolgeranno i mondiali. Speriamo ovviamente di tornare a casa con un'altra medaglia che loro si meritano per quello che fanno per questo sport. Per questa edizione è tutto. Prima di salutarvi, vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte. Arrivederci!